Un pacchetto lunghi rinnovato e potenziato, anche Riccardo Faccioli fa parte del SESA Sustinente, come è nata la trattativa per portarti qui in casa dei Falchi? Diciamo che conoscevo Pinzetta già da diversi anni, è già da un po' che cercava di portarmi a giocare dove era lui, quindi comunque diciamo che ho accettato volentieri, anche perché ritrovo Piercarlo Guzzi, che è un mio carissimo amico con cui ho giocato anni insieme, anche Cesare Monzardo, e anche comunque la vicinanza verso casa, che comunque rispetto a prima che ero molto più distante qua, è un viaggio che faccio più volentieri insieme a loro e se no anche molto più vicino. Comunque è una sfida che mi piace perché già avere la possibilità di venire a giocare in una C-Gold insieme a tantissimi amici mi fa più che piacere e spero di dare il meglio per dare una mano a loro. Che giocatore sei, quali sono le sue caratteristiche sul parquet? Diciamo che sono un uomo d'area, non ho grosse lacune, ma anche a livello di esterni, però diciamo che prevalentemente mi piace giocare dentro l'area, mi piace aiutare i miei compagni, sono un ottimo difensore e basta, insomma, diciamo che riesco a fare un po' tutto. Tu sei un giocatore di esperienza, arrivi in una sostenente che mai ha visto la serie C-Gold, questo è il punto più alto della storia del basket, di questa società, è anche uno stimolo immagino da parte tua. Sì, certo, io sono venuto qua prevalentemente per dare una mano, fornire la mia esperienza che comunque io da molti anni che faccio C-Gold e serie B, quindi se posso dare una mano a livello di esperienza la darò più che volentieri. Cercherò di fare il meglio possibile come ad ogni stagione, spero di essere comunque un giocatore che può dare una mano a questo nuovo progetto, per questa nuova C-Gold.